Accordo tra la Regione Toscana e il Corpo Consolare di Firenze per sviluppare la cooperazione internazionale, l'internazionalizzazione di imprese e l'attrazione degli investimenti dall'estero. È l'obiettivo della firma che vedete nelle immagini del protocollo di intesa siglato dal presidente toscano Enrico Rossi e dal console delle Filippine Fabio Fanfani. Il Corpo Consolare si impegnerà a promuovere nei propri stati l'immagine e le potenzialità della Toscana e dell'ufficio Invest in Toscani, specializzato nell'assistenza alle multinazionali che vogliono investire. Una delle principali manzioni del nostro mandato riguarda proprio lo sviluppo dell'attività commerciale, sia nell'import che negli export, perciò avere un riferimento diretto con le istituzioni per tutte quelle problematiche che ne possono scaturire per me è veramente fondamentale. Negli ultimi cinque anni la Toscana è la terza regione per investimenti diretti esteri, dopo Lombardia e Lazio, con 2 miliardi di euro di spese in conto capitale e 68 progetti di investimento nel 2016, 86 nel 2017 e 92 nel 2018. C'è una molteplicità di etnie e nazionalità già presenti in questa regione, sono cresciute negli ultimi tempi e dall'altra abbiamo una regione che ha forti relazioni economiche, basata sull'export, sulla capacità anche di attrarre investimenti. Sono 714 le società presenti in Toscana appartenenti a 509 gruppi a controllo estero che impiegano 56 mila addetti e generano oltre 25 miliardi di fatturato. I primi tre paesi per investimenti sono la Francia, gli Stati Uniti e la Germania. I primi tre paesi per investimenti sono la Francia, gli Stati Uniti e la Germania. I primi tre paesi per investimenti sono la Francia, gli Stati Uniti e la Germania.